Undici anni dalla tragedia che ha colpito il tranquillo biellese. Undici anni fa, alla pettinatura italiana, accadeva l'irreparabile. Tre lavoratori hanno perso la vita, altri sei hanno subito gravi danni che hanno cambiato loro la vita. Chi scrive è Gianluca Belli, segretario generale della Filctem CGL di Biella. Purtroppo il nostro è un paese che ha la tendenza nel dimenticare le cose che accadono, ancora riporta Belli. Ora non sarà certo con queste poche righe che si andrà a modificare l'accaduto, ma credo che ognuno di noi, in quanto cittadino, debba aver presente che ancora oggi si muore di lavoro. La tragedia della pettinatura è per il biellese l'equivalente della tragedia della Tissen per Torino, ancora riporta il segretario generale della Filctem CGL. Non voglio innescare inutili e sterili polemiche, ma solamente ricordare quanto accaduto come monito per tutti, e specialmente per coloro che dicono che la sicurezza nei posti di lavoro è un costo, un lacciuolo che impedisce lo sviluppo delle aziende e ne mina nelle fondamenta la possibilità di restare a produrre in Italia. Al contrario, la sicurezza sul lavoro è un valore, oltre che un segno di civiltà. La vita delle persone non deve avere un prezzo in nessuna società del pianeta, ma ancora di più in una società che si fregia di avere, tra i suoi valori portanti, il valore della salvaguardia della vita. Non entro nemmeno nel merito del tema giudiziario, ancora prosegue Gianluca Belli. Sarebbe una discussione sterile. Il 9 gennaio deve essere il giorno della memoria per il lavoro nel biellese, il giorno dove non si ricordano solo i caduti e i feriti della pettinatura italiana, ma il giorno in cui si ricordino tutti coloro che hanno subito un infortunio sul lavoro nel biellese e che tutti ci si interroghi su come si possono evitare certe tragedie. Di lavoro si deve vivere e non morire.